Io sempre cerco di prendere diversi punti di vista di una cosa. Ovviamente stiamo vivendo un momento di surrealità totale, allora lo spettacolo Male Female qui è un altro tentativo di parlare di tutto, non di solo maschi, femmine, di omosessualità, di eterosessuali, di transgender, ma anche di attraverso questo collegarsi con tutto intorno. Sempre cercare di trovare una complessità più grande di quella che ci offre la scuola, la chiesa, il partito.